Buongiorno, mi chiamo Gabriele Paradisi, sono il presidente di Asset by Mr. Deco, un'associazione che si è costituita sul finire del 2016 e aggrega tre professionalità, tre mondi, quello degli impiantisti, quello dei progettisti e quello degli amministratori di condominio. L'obiettivo è quello di fornire agli associati, che sono appunto professionisti di queste tre categorie, una serie di prodotti e servizi per farli crescere professionalmente e imprenditorialmente e cavalcare le grandi opportunità che il mercato sta offrendo già in questi mesi e offrirà sempre di più nei prossimi anni. Tutte le normative e le legislazioni, sia mondiali, europee e italiane, da un po' di tempo stanno trattando tre temi fondamentali, la sicurezza, il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente. Tutte le norme che hanno interessato l'impiantistica in questi ultimi anni vanno proprio nella direzione di questi tre grandi temi. Per cui la sfida che attende queste tre professioni riguarda per esempio la ristrutturazione, l'adeguamento del grande patrimonio immobiliare privato e pubblico italiano e per fare questo occorrono grandi professionalità. Asset by Mr. Dico vuole aiutare i professionisti a rimanere informati e formati su tecnologie normative e prodotti e sistemi per operare in questo ambito. Io vengo dal mondo dell'impiantistica, Mr. Dico che ho citato e fa parte anche nel nome dell'associazione è un prodotto software che da 17 anni aiuta gli impiantisti, elettricisti, termoidraulici, antennisti, tutti gli impiantisti nella gestione della documentazione obbligatoria e degli allenamenti di legge a cui è chiamato. Quindi dichiarazione di conformità, libretto di impianto di climatizzazione estiva e invernale, rapporto di controllo di efficienza energetica. Insomma un prodotto che non può mancarne nella cassetta degli attrezzi di ogni impiantista perché un impianto è completo, è finito solo quando anche la documentazione obbligatoria è stata realizzata.